E' certo, e cosa facciamo? Tutti i concorrenti possibili prima del momento giusto, adesso ci sono gli atleti che arrivano e se qualcuno possiede i ritorni, punti un occhio da queste parti perché stiamo a una proposta di matrimonio alla Gran Fondo, Città di Padova, perché c'è Luca che chiede a Laura, Luca giusto, ho scritto bene, se no si è sposa per me, Andrea, no ecco, sposa Andrea, no Luca, no Luca, no Luca. Luca lascia stare, no ho sbagliato il nome, Andrea Agostini chiede a Laura di sposarlo subito dopo aver tagliato il traguardo, qui ci vuole un applauso di tutto il Prato della Valle, altro che Domenica delle Palme, in palma la sua fidanzata proprio qui, complimenti, Andrea e Laura mille anni di felicità, bellissimo, una proposta di matrimonio alla Gran Fondo è un inedito.